Quello che proviamo a fare stasera è cercare di capire esattamente quello che ha detto Francesco come ultimo punto. Se sia possibile o meno cercare di capire se un computer, se un algoritmo di calcolo, può avere il senso dell'umorismo. È un pallino da una ventina d'anni, da quando ho letto un libro di un grande divulgatore filosofico ormai, che è purtroppo scomparso quest'anno, Luciano De Crescenzo, che diceva in un suo libro potrò ritenere intelligente un computer il giorno in cui capirà che sto scherzando. Io mi ricordo che questa frase mi è rimasta abbastanza attaccata, per cui ho cominciato a chiedermi con gli anni che cosa dovrebbe fare un computer per capire che sto scherzando. Il che implica che innanzitutto devo essere io stesso a capire come fa un essere umano a capire che sto scherzando. Non tutti ci riescono. Infatti. Questo ti porta chiaramente a analizzare innanzitutto da un punto di vista scifico, da un punto di vista neurologico, con tutte le possibili strumentazioni che abbiamo a disposizione, cercare di capire cosa succede nel corpo e nel cervello umano quando qualcuno dice o legge una battuta, qualcosa di umoristico e poi cercare di capire se è possibile trasferlo a un computer. E qui parleremo stasera solo di umorismo basato sul linguaggio parlato, sul linguaggio naturale. Non parlerò dell'umorismo del senso di comico che nasce da un filmato, da una musica o da altre cose. Parleremo solo dell'umorismo che scaturisce dal linguaggio. Ha tante cose in comune con tutti gli altri tipi di umorismo, come vedremo. Cominciamo subito col capire quella e col prendere quella che è un po' la battuta paradigmatica delle persone che si occupano di umorismo computazionale. Esiste una branca dell'informatica che si chiama umorismo computazionale. Siamo sei in tutto il mondo, gli altri quattro si sono suicidati, prima eravamo dieci, ma la battuta, il paradigma per eccellenza che studiano gli umoristi computazionali è la seguente battuta. I ragazzi si divertivano talmente tanto a farsi dall'albero direttamente in piscina che abbiamo deciso di aggiungerci un. Ecco, completare questa frase in modo umoristico, come la completereste voi questa frase in modo umoristico? Come la completa un umorista computazionale? Un po' d'acqua. I ragazzi si divertivano talmente tanto a tuffarsi dall'albero direttamente in piscina che abbiamo deciso di aggiungerci un po' d'acqua. Perché questa battuta fa moderatamente ridere? Cerchiamo di capirlo. Innanzitutto, come diceva un filosofo, Henri Bergson, il riso nasce dal divertimento, nasce dal cambiamento, dall'inaspettato. Succede qualcosa che non ti aspetti. La più grossa risata che ho fatto in vita mia l'ho fatta quando, ne parlava prima Francesco Sanzone, ho per un certo periodo di tempo prestato dietro a parlamento la mia voce al Duomo di Pisa come cantore, insieme appunto al coro della cappella dell'opera primaziale del Duomo. E un giorno è successa la seguente cosa. Durante la funzione pasquale, che iniziava in battistero, la cappella musicale dell'opera del Duomo iniziava intonando un tedeum in battistero, il battistero del Duomo di Pisa, che è un posto dall'acustica incredibile. Dopodiché il vescovo si alzava, percorreva lentamente la strada dal battistero al Duomo, entrava in chiesa e veniva accolto dal coro della cappella musicale pisana, che intonava un portentoso alleluia. Sì, perché appena noi finivamo di cantare, dovevamo prendere, andare velocissimi dietro le colonne, partire a corsa, arrivare dietro l'altare, tra scarpe di vernice, tacchi a spillo, enfisemi, perché alcuno dei coristi c'ho 70 anni, e di lì riprenderci e cantare. In una di queste occasioni pioveva, quindi miracolosamente circa metà della cappella musicale arriva in sede, l'altra si stampa su qualche colonna. Il vescovo, Monsignor Alessandro Plotti, entra maestoso in chiesa, il vescovo che all'epoca era un uomo di circa 2 metri e 10 di altezza, solennissimo, enorme e microfonato. E mentre entra in chiesa, mette il piede sull'ultimo gradino, bagnato, chiesa, scivola, si riprende, ma mentre scivola si sente microfonato un chiesissimo e palesissimo Cazzo! Che di fronte a 1500 fedeli schierati per la messa di Pasqua, io non potevo ridere, ero in servizio, quindi mi esplode un petardo in bocca, vedo tra i miei colleghi coristi qualche infarto, è finita lì, ma è stata, anche se non avvenuta la risata più potente della mia vita, perché? Perché era successo qualcosa di inaspettato e questo è il primo punto, succede qualcosa che non ti aspetti, la parola divertimento ha proprio questa etimologia qui, divertire, cambiare direzione. Detto questo, basta per ridere qualcosa di inaspettato, se io ora scendessi il palco, andassi da quella signorina lì in prima fila e le tirassi una martellata in testa, sarebbe inaspettato, però sarei un bastardo, cioè la signorina non riderebbe, spero quasi nessuno di voi, lei sì, io con si chiedo, siamo in università, se c'è un medico eventualmente, la signora ha bisogno. L'inaspettato non basta. Nel linguaggio figurativo, nei romanzi, nelle poesie, ci sono spesso figure retoriche inaspettate, ci sono spesso cose che ci prendono alla sprovvista, però il fatto che qualcosa sia inaspettato non basta farci ridere. Per capire che cosa succede e vedere che questa è una corrispondenza a livello neurologico con quanto adesso sosterrò da un punto di vista puramente verbale, riprendiamo la stessa battuta. I ragazzi si divertivano talmente tanto a tuffarsi dall'albero direttamente in piscina che abbiamo deciso di aggiungerci un po' d'acqua. Cosa succede? I ragazzi si divertivano, secondo quella che è l'immagine di default che voi vi costruite, a tuffarsi in una piscina. Ma qualcuno si diverte a tuffarsi in una piscina vuota o piena di mattoni? No. L'immagine che noi creiamo di alcuni matterelli che si tuffano da un albero di testa direttamente in un declivio di 4 o 5 metri è assolutamente incompatibile col divertimento. Ecco, questa è la parola chiave, incompatibile. Il divertimento, la sensazione, diciamo il fenomeno inaspettato che creiamo con la seconda parte della battuta non deve essere solo inaspettato, ma deve essere anche incompatibile con la situazione di default che abbiamo creato prima. I ragazzi si divertono a gettarsi in una piscina vuota. No, è impossibile. Nasce da questa impossibilità del nostro cervello di mettere d'accordo l'immagine che creiamo con la prima parte della battuta, con la sua conclusione, con la tesi, con la parte conclusiva, che da questa incompatibilità sorge spontaneamente la risata. Quindi non solo inaspettato, ma anche incompatibile. Questo è un secondo aspetto necessario che è stato visto a livello neurologico con la risonanza magnetica funzionale per far scaturire una risata. Una risata si attiva solo ogni qualvolta la battuta attiva due aree del cervello che sono mutualmente in conflitto, che non possono essere apparentemente attive in modo contemporaneo. E questi sono i primi due aspetti dai quali dobbiamo partire se vogliamo dire come insegnare a un computer a riconoscere dell'umorismo. Il terzo concetto lo vedremo solo alla fine. Quindi adesso, se vi va, noi facciamo un piccolo gioco. Prendiamo una battuta, un'altra battuta, e cerchiamo di capire in che modo fare, a insegnare al nostro computer a riconoscere che è per l'appunto una battuta. Non so voi a chi vi rivolgiate quando volete ridere. Per me le battute spesso più intelligenti e più cattive, quelle che fanno veramente ridere, quelle politicalis correct, vedremo dopo che la cosa ha un significato e che chi ride sul politicalis correct è molto probabilmente una brava persona. Lo vedremo alla fine di questa chierata. Io di solito vado su Spinoza, sul blog Spinoza, e di solito mi dà delle grandi soddisfazioni. E un giorno sul blog Spinoza ho trovato questa battuta, che è quella che prenderemo come battuta esempio. È una battuta che si riferisce a un episodio del campionato 2016-2017, quando nel corso di una partita di Serie A i tifosi dell'Ellas Verona hanno incominciato a cantare la canzone dello Horst Wessel e a inneggiare Adolf Hitler. La battuta dice I tifosi del Verona inneggiano a Hitler. Fatelo giocare, no? Che c'è di male? Perché questa è una battuta? Beh, facciamo a capire, cerchiamo di capire da cosa nascono i due aspetti che abbiamo visto qui. Il divertimento e l'incompatibilità. Beh, il divertimento nasce da che cosa? I tifosi del Verona inneggiano a Hitler farlo giocare. È un cambiamento di cosa? Dove si verifica il cambiamento qui? Il cambiamento si verifica nella categoria. Cosa intendo per categoria? Beh, immaginiamo di avere un computer. Immaginiamo di far fare a un computer le operazioni che un computer può fare, che sono molto semplici, sono fondamentalmente riconoscere se una cosa è presente o non è presente, riconoscere se in un dato testo è presente quella parola oppure no. Prima operazione di cui abbiamo bisogno. Seconda operazione di cui abbiamo bisogno è contare il numero di volte in cui quella parola è presente in un testo o in una raccolta di testi. Anche questo un computer lo sa fare piuttosto bene. Numero tre, stabilire un rango, cioè mettere, classificare un certo numero di parole sulla base del numero di volte in cui compaiono in un testo o in un determinato insieme di testi. Quindi, supponiamo di dare in pasto al nostro computer tutto lo scibile umano. Possiamo anche limitarci a fare di meno. Possiamo dare in pasto al nostro computer gli ultimi cento anni di quotidiani applicati in Italia. Quindi diamo in memoria al nostro calcolatore elettronico tutti i quotidiani pubblicati in Italia negli ultimi cento anni, giorno per giorno, e glieli diamo divisi per articolo. Questa cosa, come vedremo, è molto importante per giornale e per articolo. È molto importante perché noi stiamo dando al nostro computer conoscenza strutturata. Non stiamo dando un unico file di testo in cui le cose si succedono senza soluzione di continuità. Gli diamo dando, mettiamo due giornali, uno il Corriere della Sera che è stampato su carta bianca e contiene di solito informazioni di politica, costume, società, economia, scienza, finanza, nelle ultime pagine sport. E poi gli diamo, che so, la Gazzetta dello Sport stampato su carta rosa che parla primalmente di sport e solo in ultima pagina di politica e società. Gli diamo il Sole 24 Ore, che è stampato su carta arancione e che parla principalmente di economia. Gli diamo una conoscenza strutturata, suddivisa in categorie. Categorie che il computer si crea da solo, semplicemente contando le parole. In modo che un computer può capire se due parole appartengono, sottendono a una stessa categoria. Beh, in primo luogo quel computer deve essere in grado di capire che quelle due parole non sono indipendenti, che l'apparizione di due parole nello stesso articolo, che questi due semi non sono fra loro indipendenti. indipendenti significa questo. Se io contassi il numero di volte in cui in un determinato testo compare la Q, trovo che su circa, mettiamo, un testo standard italiano 20.000 parole, la Q compare circa 800, 829 volte per la precisione. Ho ripassato il numero poco prima. Se ci chiedessimo quante volte in questo testo la Q compare seguita da una U, beh, quasi sempre dopo la Q c'è una U. 807 volte di quelle 809, dietro la Q c'è una U. A meno che non scriviamo la parola catar o che non commettiamo un errore di battitura, dietro la Q c'è sempre una U. La Q e la U non sono fra loro indipendenti. La stessa cosa capita con le semi. Se noi cercassimo di dire se le parole promessi e sposi sono indipendenti, potremmo fare la seguente operazione. Primo, conto il numero di volte in cui la parola promessi appare nello scibile umano. Posso aprire Google, digitare sulla barra, potete farlo se avete lo smartphone, oppure se non ne avete voglia non fatelo, ci si vede anche male. Digitare la parola promessi e vedere quanti risultati ottengo. Quindi la probabilità di incocciare nella parola promessi, prendendo un testo a caso. Poi prendete l'altra parola, sposi, e fate la stessa cosa. Calcolate la probabilità di trovare la parola sposi in un testo a caso. Ora, se le due parole fossero indipendenti, se le parole promessi e sposi non avessero un qualche legame semantico, la probabilità di trovarle insieme nello stesso testo dovrebbe essere la probabilità di una moltiplicata per la probabilità dell'altra. Due eventi indipendenti sono tali, sono i difono tali solo quando la probabilità 1 che entrambi si verifichino è pari alla probabilità che si verifichi per la probabilità che si verifichi il secondo. Se voi tirate due dadi, la probabilità di fare 6 è un sesto, la probabilità di fare 2 6 è un trentaseiesimo, un sesto per un sesto, perché il primo dado ha una probabilità su 6 di venire con la faccia del 6 in su, quell'altro lo stesso, a meno che i due dadi non siano uniti da una molla o da un manubrio, sono indipendenti. Ma se i due dadi sono uniti da una molla, il risultato dell'uno condizia l'altro. La probabilità che il primo dado esca con la faccia 6 non è indipendente dalla probabilità che il secondo dado esca con la faccia 6. Quindi abbiamo in questo modo il modo per calcolare l'indipendenza e se facciamo questo calcolo vediamo che, come è ovvio, le parole promessi sposi non sono indipendenti. Compaiono con una probabilità di circa 2 per 10 alla meno 6, mentre se fossero indipendenti dovrebbero comparire con una probabilità che è circa 10 alla meno 11, quindi 5 ordini di grandezza 5 ordini di grandezza, scusate, inferiore rispetto a quella che si verifica. Quindi abbiamo modo di vedere se due parole non sono indipendenti. Allora, prendiamo la frase che abbiamo scritto prima. I tifosi del Verona inneggiano a Hitler, fatelo giocare. E suddividiamola ai oggetti, togliamo gli articoli e prendiamo gli elementi, mattoncini di Lego che compongono questa frase. Tifosi Verona inneggiano Hitler, fatelo giocare. La dividiamo in due blocchi. Tifosi Verona inneggiano Hitler. Qual è la parte più importante di questa frase? È la parola che compare di più sempre nel famoso scibile umano, nella collezione di giornali che abbiamo dato a mangiare al computer, quel cui contiamo quante volte compare nella sapienza umana la parola Hitler, la parola tifosi del Verona e la parola inneggiare in tutte le sue varie declinazioni. Il conto è abbastanza facile. L'oggetto più importante della frase è l'ex dittatore del Terzo Reich. Ora, cosa succede? Se voi prendete tutte le restanti parole, se voi prendete la parola Hitler, beh, la parola Hitler è categorizzabile, anche se in un modo perverso, criminale e inconcepibile, alla parola politica. La categoria, la macro-categoria alla quale vediamo appartenere la parola Hitler è quella. Troveremo spesso la parola Hitler insieme a Stato, dittatura, governo, guerra, tutte cose che sono inerenti alla macro-categoria politica. Proviamo ora a prendere questa frase a sostituire e a togliere l'ente più importante. Quindi, i tifosi del Verona inneggiano a X. Tifosi, Verona, inneggiare. Se prendiamo queste parole, cerchiamo le parole che sono più collegate con questa situazione, tifosi, Verona, inneggiare, troviamo curva, troviamo stadio, troviamo rete, troviamo arbitro. Troviamo tutte cose che hanno a che fare col calcio. Quindi, la categoria della prima frase viene intesa come categoria politica se consideriamo il suo ente più importante, ma viene intesa come categoria calcio se invece non la consideriamo. Fatelo giocare, d'altronde, chiaramente appartiene alla categoria calcio. A meno che non si parli di recenti sviluppi della politica internazionale a tutti i livelli, dove il concetto di gioco sta veramente venendo fuori in maniera imbarazzante, i tifosi del Verona inneggiano a X. Fatelo giocare. Questo è chiaramente calcio. Non c'è. Quindi, mi chiedo però a questo punto, e vi chiedo, dov'è l'incompatibilità? Io ho cambiato, in una frase, dalla categoria politica alla categoria calcio. Sono incompatibili queste due cose? Sono diverse? Ok. Ma sono incompatibili, secondo voi? Secondo me, non troppo. Non sono una persona... Un politico può intendersi di calcio, un calciatore può adarsi alla politica. Ci sono persone che hanno fatto politica sfruttando il calcio, e qui non faccio nomi. Tanto lui ha capito. Voi no, vero? Ci sono tante cose che ci dicono che politica e calcio non sono incompatibili. Allora, dov'è l'incompatibilità? Beh, l'incompatibilità, secondo me, qui è a un livello più sottile. Prendiamo le due frasi con e senza Hitler. Ok? I tifosi del Verona inneggiano a Hitler. Oppure, I tifosi del Verona inneggiano a X. Fatelo giocare. Beh, I tifosi del Verona inneggiano a X. Fatelo giocare. È un comportamento di uno spettacolo. I lavoratori del pallone sono... Avevano... Quando... Almeno per quanto... Io il libretto Empalz, quello dei lavoratori dello spettacolo. Il tifoso è una persona che ha pagato un bitto e può pretendere che il proprio beniamino giochi e non venga lasciato a marcire in pancina. È un comportamento condivisibile. I tifosi del Verona inneggiano a Hitler. Eh. Per quanti di voi è un comportamento condivisibile? Se c'è qualcuno che dice lo pregherei di andare via perché ha sbagliato posto. Secondo me è questo. il punto focale. Comportamento condivisibile, comportamento non condivisibile. È qui che nasce l'incompatibilità. È qui che dico, secondo me, chi ride su una battuta del genere probabilmente è una brava persona perché chi ride su una battuta del genere ritiene incompatibile, ritiene non condivisibile il fatto che qualcuno possa inneggiare a Hitler. proprio nei meandri più reconditi del suo cervello. È un qualcosa che non può e non riesce ad accettare. Quindi per questo dico che l'umorismo political is correct molto spesso è l'umorismo su cui le brave persone ridono più volentieri. Se ridiamo su attute del genere significa che nel nostro cervello certi atteggiamenti non li riteniamo condivisibili. Ci viene da ridere proprio perché rimaniamo increduli di fronte alla distanza che c'è fra qualcosa che si può fare e qualcosa che secondo noi non si può fare. detto questo abbiamo visto due aspetti e abbiamo visto come potremmo insegnare a un computer a riconoscere questi due aspetti l'imprevedibile categorie diverse e appunto l'incompatibile categorie non sovrapponibili cose che si possono fare non si possono fare. Questo richiederebbe chiaramente insegnare un po' di etica al nostro computer fargli mangiare probabilmente anche un po' di libri di filosofia e di altre cose ma probabilmente ce la potremmo fare. Arriviamo ora al terzo punto il terzo punto che secondo me è quello veramente interessante ed è per quale motivo uno dovrebbe insegnare a un computer a ridere cioè Malvaldi con tutte le cose importanti che ci sono da fare perché vuoi insegnare a un computer a ridere. Allora per capire perché secondo me dobbiamo tornare alla prima battuta i ragazzi si divertono talmente tanto eccetera eccetera questa cosa che se intellettualmente è una situazione umoristica giusto? se io vi dicessi che questo non è una battuta ma una situazione di cronaca se vi dicessi che davvero c'erano degli adolescenti nel mio giardino che si tiravano di testa in piscina in una piscina vuota qualcuno di voi riderebbe signora lei no mi raccomando eh l'abbiamo capito che lei è un'insensibile lasci parlare gli altri qualcuno di voi riderebbe vedere dei sedicenni che si scassano la capa no perché ci ridiamo perché questi sedicenni non esistono perché siamo in grado di capire che quei sedicenni che quella piscina che quell'albero sono nostre costruzioni mentali sono oggetti che nella realtà non esistono e questo è il terzo ingrediente quello fondamentale ciò che succede non deve mettere a rischio la nostra incolumità o quella dei nostri simili una persona che viene mettiamo mi viene in mente un pesce di nome Wanda uno Yorkshire che viene schiacciato da un camion in un pesce di nome Wanda fa ridere un cane che viene schiacciato da una moto per la strada no meno che non sia il cane di vostra suocera no sono un po' insensibile sì ora come faccio a insegnare a un computer a distinguere ciò che mette in pericolo la sua sopravvivenza e la sua esistenza o quella dei suoi simili dovrei prima di tutto far capire al mio computer il concetto di sua sopravvivenza di sua esistenza dovrei essere in grado di far capire al computer che esiste un mondo in cui lui esiste e funziona e un mondo in cui lui no dovrei in poche parole essere in grado di dotare il mio computer di coscienza di esistere e qui sto dicendo una cosa abbastanza altina e abbastanza ambiziosa se voglio veramente che il mio computer rida come un essere umano devo metterlo in condizione di capire che cosa può capitargli veramente e che cosa invece non può capitargli veramente devo essere in grado di fargli riconoscere una mano che si avvicina a la spina e la sta staccando e distinguerla dal filmato di un uomo la cui mano si avvicina alla spina e sta per staccarla devo essere in grado di dargli una coscienza ora io non so se arriveremo mai a realizzare dei computer che siano dotati di coscienza c'è chi dice che ci siamo vicini i profeti della singolarità i vari Rai Kurzweil e compagnia beh Rai Kurzweil è un grande informatico statunitense che da anni si nutre esclusivamente di pillole nella speranza di vivere fino a 160 fino al 2049 anno in cui al 2080 anno in cui la singolarità secondo lui cioè i computer con coscienza saranno una realtà e la sua mente potrà essere trasferita in un computer ci sono persone del genere ci sono persone che dicono che la cosa è assolutamente impossibile ma non ti spiegano per niente io mi colloco fra gli agnostici volenterosi non so se riusciremo a dare coscienza a un computer e francamente non me ne frega niente quello che conta è la direzione non è se sarò in grado di dare coscienza a un computer il fatto è che se io riesco ad avanzare nella mia competenza nella mia capacità di capire cosa succede nel cervello umano e insegnarlo programmando a un computer vuol dire che quello che capisco del cervello umano del corpo umano del funzionamento della nostra mente non è una mia lucubrazione ma è un qualcosa che ha un riscontro obiettivo nella matematica e nell'informatica è un qualcosa che funziona esattamente come io credevo la conquista della coscienza così come la conquista della luna non è una destinazione è una direzione e basta se ci arriveremo non lo so però secondo me se ci arriveremo probabilmente l'umorismo sarà una delle armi migliori che abbiamo uno dei trampolini più efficaci per arrivarci io a questo punto con il vostro messo mi chiederei qui e se ci sono domande sono pronto a ascoltarle perlomeno magari forse anche a provare a rispondere a qualcuna per intanto vi ringrazio per la vostra attenzione domande? ormai dormano tutti se veramente mi raccomando se qualcuno fa non quel signore lì in prima fila perché abbiamo capito che è un'anima perfida eventualmente qualcun altro questo è un momento sempre imbarazzante un altro meccanismo dell'umorismo è il giochi di parole quello forse un computer se lei viene arrestato e le dicono facciamolo cantare c'è un doppio senso che essendo lei un cantante lirico potrebbe dare luogo a umorismo anche involontario infatti i giochi di parole sono al momento l'unica cosa che un computer è in grado di riconoscere come umorismo effettivamente diciamo che in questo momento a livello creativo i software hanno il senso e l'umorismo di un bambino di 4-5 anni riconoscono un gioco di parole riconoscono quando un gioco di parole è diciamo è costruito per fare umorismo e quando invece è semplicemente un non-sense cioè se dicessi arresto qualcuno facciamolo guidare ti dicono no non ha senso se ti dicono facciamolo cantare ci sono due possibili significati e questo e questo il computer è in grado è in grado di farlo diciamo che a livello dei giochi di parole lo 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 può lo può fare quello che non può fare al momento il computer è di diciamo è di riconoscere un umorismo che ne una risata che viene da diciamo da categorie di livello superiore da quelle che sono categorie di pensiero e non campi semantici cioè quelle che sono appunto le nostre le le macro categorie con cui pensiamo faccio faccio un esempio qualcuno di voi lo sa da dove viene che origine ha la parola carampane no la carampane ha un un'origine bellissima viene dalla venezia del 1500 che ha 100.000 abitanti e più di 10.000 prostitute perché perché i doji veneziani e i prelati veneziani si erano resiuto che molti degli abitanti di venezia maschi amavano i maschi e questa cosa non aveva bene per cui per cercare di rimediare a quello che secondo loro era un problema avevano imporato una quantità incredibile di peripatetiche dalle regioni limitrofe e ecciavano in questo modo aumentando l'offerta di svegliare un po' il veneziano diciamo così moderno o greco antico cosa succede che a un certo punto queste signore invecchiano non sono più in grado di fare bene il loro lavoro non sono più in grado di procacciarsi il bene quotidiano a questo punto bisogna in qualche modo fare in modo che abbiano un alloggio una casa e un tal signore il signor rampani destina le sue le sue case per il ricovero di queste signore evidentemente era una persona che aveva diciamo che doveva molta riconoscenza a queste signore per cui le vecchie prostitute stanno a carampani ma qualcuno si aziona a queste signore che pure se attempate sono comunque esseri umani hanno una loro grazia una loro simpatia alcuni dei vecchi clienti sono rimasti affezionati e quindi tornano a trovarle e quindi vanno a carampani e da andare a carampani si arriva a andare a carampane quello che oggi noi definiremmo andare a milf all'epoca era andare a carampane beh quella che vi ho dato è una spiegazione filologicamente inaccepibile inaccepibile e assolutamente c'è un bellissimo libro di Carlo Vanoni sull'argomento se siete curiosi assolutamente riscontrabile vi ho dato una spiegazione storica però qualcuno di voi ha reso mentre la davo perché? beh perché il concetto di spiegazione storica è dotta e il concetto di patetica spesso sono in conflitto inspiegabilmente secondo me la filosofia e la scienza debbono molto agli amori ancillari perché ricordiamoci di Socrate si ispirava tantissimo a queste cose però questo tipo di umorismo nasce dal confliggere apparente di due categorie che sono molto alte nel pensiero quindi un computer non sarebbe in grado di vedere che c'è dell'umorismo nella storia che vi ho raccontato proprio in questo momento non ne sarebbe in grado perché sarebbe in grado di vedere incompatibilità fra la seriosità della spiegazione storica e diciamo la diciamo l'inevitabile ilarità che suscita nell'essere umano il parlare di sesso di cacca o di altre cose in pubblico in termini che siano eleganti e in un certo qual modo non portati appunto all'argomento ma semplici a parlare dell'argomento questo proprio il computer in questo momento non ci arriva prima o di magari c'è uno che ha alzato la mano o vedo male io no era una zanzara ok una domanda dove? c'è c'è ah ciao buonasera buonasera le volevo chiedere se l'umorismo computazionale ha un corpo pratico nella computazione oppure serve più a noi stessi che tentando di inserire il computer l'umorismo o altri processi psicologici che ci è quello di capire noi stessi quindi è uno scopo lo scopo è quello appunto di studiare insomma attraverso l'insegnamento dell'umorismo a un computer studiare come ridiamo noi però c'è un aspetto pratico che non va sottovalutato e che in un certo senso è il contrario dell'umorismo cioè è la detection automatica della discriminazione su internet cosa succede? in che modo io riconosco una discriminazione su internet mettiamo che io ci siano cento curriculum di candidati ad un certo lavoro e che io dica io non ti assumo perché sei di colore nero quella è chiaramente e palesemente una discriminazione ok? potrebbe succedere anche che io applichi una discriminazione più sottile io non ti assumo perché ti chiami Lebron Cousin cosa c'entra il mio nome con la discriminazione apparentemente niente se non fosse che nomi come Lebron Latoya De Marco McDonald e altre cose sono tipicamente associati con l'essere nati ad Harlem quindi si tratta di un meccanismo di discriminazione levemente più sottile però questi tipi di discriminazione sono facili da vedere sono discriminazioni per correlazione se non ti assumo perché sei nero ma ti assumo perché vivi ad Harlem spiegami che differenza c'è ci sono invece tipi di discriminazione che nascono dalle combinazioni allora il colore nero a te da fastidio no i gatti ti piacciono o benissimo quando qualcuno ti attraversa la strada hai delle impressioni negative cosa ne pensi di un gatto nero che ti attraversa la strada che è un bel animale qualcuno meno intelligente di te potrebbe pensare che porta merda allora gatto non porta male il colore nero non porta male il gesto di attraversare la strada non porta male un gatto nero che attraversa la strada secondo alcuni porta male è in qualche modo un tipo di discriminazione diverso e molto più difficile perché nasce dalla combinazione di ingredienti differenti quindi il dire io non ti assumo perché sei un gatto perché mi porti merda ma perché sei un gatto nero che mi attraversa la strada mi stai dicendo esattamente la stessa cosa ma nel secondo modo me la stai dicendo in un modo tale che per un computer potrebbe non essere automatico da da comprendere da considerare se io insegno al mio computer a ragionare per categorie a ragionare per categorie che si intersecano e a giudicare cosa è compatibile quali categorie sono compatibili e quali no questo tipo di discriminazioni è un qualcosa che io posso verificare direttamente se pensi che io stia facendo un esempio d'otto immagina questo due anni fa un'agenzia di lavoro interinale l'adecco ha fatto un test ha mandato ai propri uffici tutta una serie di curriculum senza foto che erano identici assolutamente identici 100 persone 50 nomini e 50 donne identici l'unica cosa che avevano cambiato erano i nomi di battesimo e gli indirizzi mettendo appunto esso come nomi di battesimo nomi depol e cose del genere e come indirizzo la zona per l'appunto di Harlem i curriculum per il resto è assolutamente un buon 30% in più di curriculum che sono stati considerati inadeguati nella parte dei curriculum che avevano le persone nate ad Harlem che si chiamavano depol siccome oggi come oggi la valutazione automatica di posizioni la quantità di informazioni che mettiamo su internet è incredibile riuscire a individuare in maniera automatica una possibile discriminazione potrebbe essere un bel passo avanti quindi questo è uno degli aspetti pratici che mi viene in mente l'altro aspetto pratico che è la cosa sulla quale stanno lavorando per esempio ora al dipartimento di informatica a Pisa è correlato all'individuazione della depressione maggiore tu sai che quando quando una persona è depressa molto spesso manifesta manifesta diciamo un cambiamento del modo di esprimersi che non è necessariamente non è necessariamente un cambiamento in peggio non è necessariamente un manifestare sentimenti più visti può anche essere può anche manifestarsi nella direzione opposta nel tentativo di scherzare e ridere continuamente gli psichiatri fanno fare spesso i pazienti depressi fanno scrivere le loro storie e fanno valutare i psichiatri cognitivi le loro sensazioni in termini di quelli che chiamano abc evento reazione spontanea significato beh il modo di scrivere questi abc ha chiaramente un specialmente significati ha chiaramente un'intenzione nei confronti di chi li scrive il significato che do a un'azione ha chiaramente una una sua diciamo un suo correlato con quello con il modo in cui mi sento il riuscire a a verificare a sospettare a inferire in maniera automatica facendo leggere un testo scritto da una persona se quella persona vuole all'intenzione di far ridere oppure all'intenzione di compatire oppure all'intenzione di può essere può rivelarsi molto utile nell'agnosticare malattie disturbi dell'umore disturbi cognitivo comportamentali quindi questa è un'altra possibile applicazione qui appunto si sta parlando del contrario tutte le volte che si parla di umorismo si parla anche di assenza di umorismo direttamente queste sono le azioni pratiche però ti direi che al momento appunto la cosa più significativa è cercare di capire come funzioniamo però è un ciclo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti